Buongiorno, ben ritrovati. 15 aprile 2021, di solito in apertura di programma, di conversazione, di diretta, il bravo conduttore, il bravo intervistatore, il bravo presentatore esordisce con una clausola di stile. E con grande piacere, poi sappiamo tutti che 99 volte su 100 appunto è un format di educazione, per carità, non si sa mai quanto sentito. Ecco, consentitemi di dire, io che ho fama di avere un carattere vagamente abrasivo e spigoloso, che invece è un vero e sincero piacere per me ritrovare il Presidente Emerito della Camera dei Deputati, attualmente Presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci sta vedendo. Bene, ora io dovrei mettermi, per i pochi che magari non hanno contezza di tutta la biografia del Presidente Violante, a elencare le cose che ha fatto nella vita. Ricordo che per quanto mi riguarda e per essere estremamente sintetico, il Presidente Violante è stato un magistrato in giovanissima età. A quanti anni è diventato magistrato, Presidente? 25. 25, 25, 25 anni. 25, 25. E poi, oltre che essere un magistrato è diventato un politico, qua già potremmo con un sofisma vedere se poi il magistrato, nel momento in cui agisce, un certo tipo di magistrato non stia facendo a sua volta politica. Però, passiamo oltre, politico che è diventato Presidente della Camera dei Deputati, oltre che essere magistrato prima politico, è un giurista, saggista. L'ultimo libro che ha scritto, insegna Creonte, è un agile pamphlet su quegli errori che non si dovrebbero perlomeno commettere, uso il condizionale, nell'esercizio del potere. Ce ne sono almeno tre, no, Presidente? Ce li vuole ricordare per cortesia? Sì, aprire un conflitto che non si è grado di chiudere, essere arroganti e sottovalutare la forza dell'adversario. Ecco, perfetto. Allora, quando io ho letto questi tre principi, gli errori da non commettere, adesso lei mi dirà se ho fatto bene o ho fatto male, oppure se c'è un'eccessiva malizia, ma è come se sotto ciascuno di questi errori io avessi visto un nome. Io, eh, non pretendo che l'abbia visto lei. Però, ad esempio, aprire un conflitto che non si è in grado poi di portare a termine, non so perché, a me è venuto in mente Matteo Salvini, che nel 2019 decide, da componente del governo Conte 1, il governo giallo-verde, di aprire una crisi e di sfiduciare, no? Uno, conflitto che non ha portato a termine, se non altro perché poi è uscito lui dal governo ed è entrato il Partito Democratico. Secondo, l'arroganza. Beh, l'arroganza è un tratto comune, purtroppo, a molti, però, ecco, se io dovessi dire, sempre dal mio punto di vista, certo, io che ho seguito con grande simpatia e attenzione l'avvento in politica di Matteo Renzi, poi a un certo punto ho dovuto io concludere che mi sembrava che avesse un tratto vagamente arrogante. E poi, relativamente al terzo punto, cioè la sopravvalutazione delle proprie possibilità e dei propri mezzi, secondo me, sempre io, ho visto un altro nome e cognome, cioè per come è finito il governo Conte 2, ho l'impressione che il presidente Conte, vuoi anche per quello che sentiva dire dagli esponenti dei due partiti più importanti che lo sostenevano, il PD e i Cinque Stelle, o Conte o Morte, forse ha fatto una valutazione che appunto vedeva, come dire, una sopravvalutazione delle proprie possibilità. Sono io che sono troppo malizioso assegnando questi tre nomi e questi tre cognomi? Oppure lei aveva in mente una categoria astratta o altre persone, magari neppure italiane? No, è abbastanza corretto quello che dice. Devo dire che la politica è un'affinità fondata sulla scelta e quando si sceglie è sempre possibile sbagliare. Quindi non esistono politici che non abbiano sbagliato. Pensi solo a star così quando compi l'operazione di bombardamento in Libia per abbattere Gheddafi e poi quello che è stato la Libia oggi, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti, si è aperto conflitto che non si è stato in grado di chiudere, per fare un esempio internazionale, ma ce ne sono tanti. Gli esempi sono quelli, però teniamo conto che quando si ha il dovere di scegliere, purtroppo può capitare di sbagliare. Il problema non è non sbagliare, nessuno non ha commesso errori. In politica come nell'esercizio di un qualsiasi potere, come anche in un'azienda. Ma il punto è di essere consapevoli che si può sbagliare, accorgersi che si è sbagliato e corregersi. Questa credo che sia la vera qualità di un dirigente politico. Le posso chiedere che cosa pensa di questi primi due mesi di fatto di esercizio del governo da parte del Presidente del Consiglio? Draghi, il quale viene sempre detto non politico. So che lei una volta ha già corretto qualcuno che usava questa definizione dicendo un curriculum non partitico, ma che il curriculum di Draghi non sia politico, politico perché nei ruoli che ha ricoperto nel tempo, con le sue decisioni, con le sue scelte, andava a incidere sul bene comune. Quindi le chiedo cosa pensa di questi primi due mesi del Presidente Draghi e del suo governo? Ma guardi, è troppo presto per esprimere i giudizi seri, bisogna un governo vassaggiato un po' col tempo. Le scelte che ha fatto sinora non ho visto errori. Scelte sbagliate, le larghe maggioranze sono una trappola sempre, perché nascondono ipocrisia. Quindi apparenti sostegni ed effettive prese di distanza. Quindi aspetteria ancora almeno un paio di mesi per capire bene se l'asse che il governo ha scelto è quello giusto. Ho l'impressione che sinora errori non ci ne siano stati, però è un'impressione. Magari qualcuno avrà un'opinione diversa. Sì, sorrido perché mi viene in mente quello che si tramanda a proposito dell'allora ministro degli esteri cinese, Chu and Lai, il quale nel preparare con una delegazione americana il famoso incontro fra Nixon e Mao Tse Tung, che era stato anticipato dalla cosiddetta diplomazia del ping pong, cioè nel senso si erano scontrate le squadre di ping pong, e da lì si è arrabbiato un percorso che poi ha portato a far sì che Mao e Nixon si incontrassero. Ma nel momento in cui si stava appunto mettendo insieme l'incontro e c'erano questi scambi di vedute, qualcuno disse a Chu and Lai, con riferimento alla rivoluzione cinese, alla lunga marcia, eccetera, disse ma voi avete un precedente nella rivoluzione francese. Che cosa pensa della rivoluzione francese? Chiesero a Chu and Lai e Chu and Lai disse, nel 1970, è un po' presto per dare un giudizio, perché notoriamente i cinesi hanno, diciamo così, come il Vaticano, la tendenza a storicizzare con una certa calma. Sì, nei secoli. Eh sì, esatto. Allora, partirei, se mi consente, prima di parlare di Leonardo, di quello che sta facendo adesso, la civiltà delle macchine, tra l'altro la civiltà delle macchine, Fondazione Leonardo, prestigiosa rivista, la civiltà delle macchine a cui collaborarono, quando c'era film meccanica, adesso Leonardo, personalità del tipo di Giuseppe Ungaretti, di Gadda, di Alberto Moravia, insomma. Quindi anche uno strum, giusto? Sì, sì, certo. Però le vorrei invece chiedere, sfrugliarla, se posso usare questo termine dialettale, sul tema della magistratura. Lei è stato un magistrato di vaglio, è stato, tra l'altro, a seconda delle stagioni, a seconda delle congiunture politiche, indicato come il capo del partito dei PM, Tempori Busillis, poi un mezzo collaborazionista con i governi di centrodestra, per aver fatto delle osservazioni, una delle quali mi è piaciuta molto in una sua recente intervista al riformista, qui in Italia, più che parlare della separazione delle carriere in magistratura, bisognerebbe parlare della separazione delle carriere tra alcuni giornalisti e alcuni PM. È ancora di questo avviso, Presidente? Sì, sì, sì. La ringrazio perché ha il felice dono della sintesi. E allora approfondisco. Scandalo o vicenda Palamara, che almeno all'inizio, ai miei occhi, è stata quasi tenuta sotto traccia, anche se subito, fin dall'inizio, il capo dello Stato, che è Presidente dell'organo di autogoverno, aveva detto, qua ragazzi bisogna, adesso lo riassumo io in maniera grossolara, bisogna fare qualcosa, bisogna darsi una mossa, bisogna comunque vedere di riformare la macchina, perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona. La vicenda Palamara è andata avanti con tutti i suoi effetti collaterali, mediatici, all'interno della categoria, però mi pare che il dibattito sia un po' fermo, non si è capito cosa bisogna fare del CSM, di questo CSM. Io so che lei aveva sviluppato un'ipotesi di cambiamento, ma cambiamento di cosa, Presidente, a proposito del CSM? Sotto due profili, uno è questo, la Costituzione dice che non scade il CSM, scadono i componenti del CSM, la differenza non è di poco rilievo, perché se si dice che scadono i componenti, vuol dire che un componente dura 4 anni, se qualcuno si è dimesso, come è capitato in questo periodo, per effetto della vicenda Palamara, chi subentra deve restare 4 anni, non deve scadere alla scadenza dei 4 anni dei più vecchi, diciamo così. questo è lo stesso meccanismo che si è creato per la Corte Costituzionale, cioè c'è una rotazione dei membri, non bisogna cominciare ogni volta da capo. Questo cosa fa? Fa innanzitutto che si consolidano le prassi interpretative del CSM. Secondo che non accade quello che accade adesso, quando entrano insieme la componente dei magistrati, che sono due terzi del CSM, e la componente degli eletti del Parlamento, che sono un terzo, questi ultimi non sanno nulla del CSM, gli altri sanno tutto. E quando gli ultimi, cioè quegli eletti del Parlamento, riescono a capire come stanno le cose, ci sono almeno 7-8 mesi, nel frattempo i magistrati hanno sistemato tutto, è impossibile cambiare. Quindi la prima cosa è questa, applicare la Costituzione. Seconda cosa, avere un organismo disciplinare per tutte le magistrature, non solo per la magistra ordinaria. Ci sono problemi disciplinari, di organismi disciplinari, molto seri, per la giustizia amministrativa, tale Consiglio di Stato, per la Corte dei Conti. Quindi avere un organismo unitario per tutte le magistrature, credo che sia una cosa molto seria, soffrendo la disciplina delle magistrature agli organi di governo interno. che sono il CSM per la magistra ordinaria e i consigli di presidenza della giustizia amministrativa, per tale Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, per i magistrati della Corte dei Conti. Bene, questa è una proposta che riguarda il CSM, diciamo così, un possibile, futuribile, assetto, anche per uscire da quello che è, questo è un dato oggettivo, credo che nessuno possa eccepire, sulla definizione di strapotere delle correnti, correnti che fanno riferimento all'Associazione Nazionale Magistrate che è il sindacato delle Toghe, del resto, per non coinvolgere il Presidente Violante, mi rifaccio a Giovanni Falcone, il quale a questo proposito aveva maturato delle convinzioni che aveva anche esternato, a proposito del peso, del ruolo e dei comportamenti, di alcune componenti, proprio poi in riferimento allo stesso CSM. Questo per quanto riguarda la magistratura, tra l'altro ricordo un altro suo panflet che mi sono bevuto dalla prima all'ultima riga, Magistrati, scritto per Einaudi, il quale portava in copertina una frase di Bacone, ce la vuole ricordare Presidente? Ma ora non ricordo la memoria, poi ricordo il senso, perché i magistrati devono essere leoni, ma leoni sotto il trono, cioè ti ho un presente che io poi prendo le distanze da questa frase naturalmente, perché non vuol dire che una magistratura sottoposta al potere politico è una magistratura che non garantisce, quindi, però tra l'altro Bacone finì incriminato per corruzione, è condannato, quindi, come dire, fu vittima di questa sua presa di posizione, ma credo che occorre, i giudici devono essere indipendenti, assolutamente, la garanzia dei cittadini, però c'è bisogno di una forte riflessione nell'amministratura sulla questione morale dell'amministratura, cioè c'è un problema di etica pubblica, di etica della professione che una parte dell'amministratura sta affrontando, specie quella più giovane, ma non solo, però ecco, questo è un tema molto serio e delicato che non si risolve con leggi, si risolve con una seria discussione, riflessione e un'assunzione del principio del limite. Un magistrato per la quantità di poteri che esercita discrezionalmente nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini deve tenere sempre comportamenti e comportarsi in modo di essere rispettato e di essere credibile. Si attiene comportamenti che non rendono credibile viene meno a un principio fondamentale della sua professione. Questa è la mia opinione. C'è un'altra sua frase che mi piace, poi le devo chiedere invece, chiederò il giurista di una frase del Presidente Mattarella non sulla magistratura ma sul semestre bianco, si prepari? Frase che il Presidente Mattarella ha detto in occasione della commemorazione dei 130 anni della nascita di un altro Presidente della Repubblica, Antonio Segni, ma lei ha detto, mi sono annotato in un'altra intervista, ricordiamoci comunque che la giustizia punisce, quando lo fa, aggiungo io, ma non risana. Cosa intendeva dire, Presidente? Ma guardi, mi permetto un paragone mitologico, gli antichi greci descrivevano la giustizia come un personaggio che sta ai piedi di Giove, alla destra di Giove, alla sinistra c'è Haidos, cioè in termine cattolico, io non sono cattolico, sono credente, ma non sono cattolico, potremmo parlare di misericordia, di rispetto, di perdono, la giustizia e il rispetto della persona vanno sempre di pari passo, questo credo che sia un dato essenziale. Ecco, la giustizia senza il rispetto della persona lacera, qualche volta risarcisce, ma certamente non ripuce i rapporti. Quale, c'è un termine molto importante nella Bibbia, la sedaka, la sedaka è la conciliazione, la giustizia senza conciliazione non è giustizia, è solo l'esercito, e quindi il problema è costruire una cultura della giustizia che preveda anche il riconoscimento del valore della persona che anche è commesso un delitto, anche il peggior criminale è comunque una persona che, ferme restando le misure che la legge prevede, deve essere rispettato nel suo essere persona, è la vittima, altrettanto. Quindi quando questo non accade, al massimo c'è una ricompensazione del rapporto tra chi ha commesso il reato e la società. Sì, tra l'altro aggiungo un altro cosiddetto broccardo latino che ho imparato e memorizzato ai tempi in cui ero uno sfaticato studente di giurisprudenza tanti anni fa all'Università Cattolica di Milano, Summumius Summai Nuria, che vuol dire anche che poi l'applicazione credo, mi corregga Presidente, l'applicazione meccanica del diritto e per meccanica intendo anche prescindendo dalla considerazione delle persone che hai davanti può portare a una somma in giustizia per paradosso, corretto, no? Summumius Summai Nuria è una delle tante cose che mi sono annotato nei miei nei miei bigini dell'epoca. Presidente, dicevo, Presidente Mattarella ha fatto un discorso in cui evocando lo stesso segni suo predecessore al Quirinale ha fatto un ragionamento intorno al cosiddetto semestre bianco. Ora, come tutti sanno, il semestre bianco fa riferimento all'ultimo semestre del mandato settennale del capo dello Stato in cui è previsto che egli, Presidente della Repubblica in carica non si possa avvalere della facoltà di sciogliere le camere. Principio costituzionale che era stato introdotto, non voglio fare il maestrino tanto più alla presenza del Presidente Violante, però per spiegare, fu introdotto all'epoca perché non si voleva che un capo di Stato in carica per cercare di guadagnare un secondo mandato sciogliessere camere negli ultimi suoi mesi per puntare arrivare alle urne e ottenere dalle urne comunque dai cittadini una maggioranza che poi lo riconfermasse nell'incarico. Allora, per evitare tutto questo i nostri padri costituenti dissero negli ultimi sei mesi non si può fare. Il ragionamento che ha fatto il Presidente Mattarella parlo di due mesi fa è stato questo, ha detto benissimo capisco la razio storicizzando ma oggi c'è il rischio che a fronte delle emergenze delle situazioni che la politica si può trovare a dover affrontare da un momento all'altro forse questo istituto questo totem questo mantra del semestre bianco dovrebbe essere rivisto ad esempio ha detto il Presidente Mattarella sempre in punta di diritto e non parlando di sé ovviamente anche perché da come l'ho capito io anche dal discorso di Capodanno ha detto questo è il mio ultimo discorso da Presidente mi sembrava abbastanza esplicito ha fatto questo ragionamento si potrebbe introdurre una riforma un emendamento a questo principio costituzionale eliminando il semestre bianco e dicendo che il Presidente della Repubblica non può fare due mandati immediatamente consecutivi quindi semmai il Capo dello Stato che lo è stato una volta si può ripresentare più avanti ma non subito dopo così si elimina il problema di pensare che lui sciogga le camere per un suo tornaconto personale le pare che questo ragionamento in punta di diritto e prescindendo dalla situazione contingente di Mattarella abbia un senso? Sì sono d'accordo anche perché il semestre bianco può essere utilizzato strumentalmente da forze politiche meno responsabili per aprire battaglie contro il governo qualunque esso sia e al fine di guadagnare posizioni in vista dopo di rilezione dell'addizione del Capo dello Stato tanto le camere non si scioglono non si va a votare quindi si è tranquilli dal punto di vista della tenuta dei seggi in Parlamento però come dire ci può essere un'azione distruttiva senza responsabilità quindi sono d'accordo col principio di cui parlava il Presidente Mattarella Lei ha attraversato da magistrato le tante stagioni tormentate della nostra storia più recente è stato Presidente della Commissione Antimafia raccolse le parole di Tommaso Buscetta sul cosiddetto terzo livello cioè i rapporti veri e quelli presunti tra i vertici di Cosa Nostra e qualche politico o la politica romana cosiddetta e poi ha avuto a che fare anche sul piano personale con la stagione del terrorismo che io ricordo perfettamente perché ero uno studente di liceo nei cosiddetti anni di piombo intanto che ricordo ha portato con sé di quella stagione degli anni di piombo e poi il fatto che noi abbiamo conosciuto quella stagione fortunatamente si è chiusa a un certo punto poi però quando io rivedo certe immagini degli scontri ad esempio che ci sono stati in questi giorni da parte di categorie economiche particolarmente colpite dalla crisi del covid in cui però l'impressione che qualcuno cerchi di soffiare sul fuoco dico sì sì non bisogna enfatizzare il pericolo ma neanche sottacerlo perché poi alla fine negli anni 70 all'inizio fu così c'erano i compagni e parlo soprattutto per le brigate rosse ma c'erano anche i terroristi neri che sia chiaro che tra l'altro ammazzarono ad esempio il giudice Eugenio Corso qua a Roma il giudice Mario Amato potrei fare a proposito dei terroristi neri ma i brigatisti rossi compagni che sbagliano Rossana Rossanda sul manifesto sembra di sfogliare un album di famiglia altra polemica sempre per le frasi di Rossanda che cosa si sente di dire a proposito di questi di questi due momenti quello attuale e quello passato andiamo con ordine allora circa il terzo livello mi permetto di correggere la Piloso il terzo livello è un'invenzione giornalistica nel senso che la espressione sale a una relazione che fecero un convegno i 12 Falcone e Turone per stabilire quali sono i tipi di omicidi che commettono si parlava di terrorismo allora i terroristi quelli di terzo livello sono quelli che riguardano le persone che hanno una relazione tra l'opinione pubblica e lo Stato la credibilità dello Stato penso a D'Alessandrini questo tipo di omicidi insomma quelli degli uomini che davano credibilità uccisi perché davano credibilità allo Stato per quanto riguarda la questione del terrorismo io preferisco non parlare di quella fase non peraltro perché si fa un po' ci si lascia prendere dal riducismo e quindi è stata una stagione che per fortuna è stata chiusa con la vittoria della Repubblica e siamo stati un paese tra l'altro che è l'unico paese che ha conosciuto il terrorismo nel quale sono manifestati tentativi reali veri e atteggiamenti di dissociazione dall'organizzazione terroristica cosa che altri paesi non hanno avuto e noi abbiamo difeso i valori della Repubblica sempre nella piena legalità circa la terza questione che le poneva ecco io credo che bisogna guardarsi dalla rabbia degli onesti e dalle astuzie degli disonesti ci sono stati in campo entrambe le cose la rabbia degli onesti e anche le astuzie degli disonesti non c'è paragoni da fare con il periodo del terrorismo non è questo però certamente credo che il governo debba tenere particolarmente conto della rabbia delle persone oneste sia perché può essere quello l'innesco poi dell'astuzie delle persone non oneste sia perché dietro ci sono problemi veri reali sentivo ieri una personalità che stimo che diceva però scusate ci sono quelli le cassive di supermercati quelli che lavorano in fabb che in azienda che lo fanno tutte le cotelle ma non fanno perché altri settori sono chiusi i produttivi sono chiusi credo che il governo stia riflettendo su questo e tra un po' cercherà di trovare soluzioni adeguate tanto la ringrazio per la correzione perché i giornalisti non devono avere la presunzione di sapere tutto sempre e comunque anche i giornalisti sbagliano pensate un po' oppure pigramente trascinano delle figure retoriche dopodiché nessuno va mai a fare la verifica oppure la fa ma la fa in maniera non corretta come è successo a proposito del terzo livello grazie memorizzerò la correzione e mi piace molto non sottovalutare la rabbia degli onesti un'ultima domanda presidente ringraziandola di aver accettato il nostro invito e di questa purtroppo breve conversazione ma spero che in futuro ci si possa ancora una volta ritrovare a chiacchierare quanto le manca la politica attiva adesso lei mi risponderà ma guardi che in qualche modo io faccio politica anche da presidente della fondazione Leonardo una politica di tipo culturale poi se vuole ce la esplicita meglio però la politica politicata diciamo così le manca? no perché devo dirle io sono volontariamente ho lasciato la camera da 30 anni e dico un po' scherzosamente che sono stato in Parlamento più di Wittiva a San Pietro più di Ferra a Berlino e più di Stalin a Mosca quindi era ora di andarmi insomma è più di Mussolini a Marzo Venezia quindi era ora di andarmene perché non ecco per dirla in termini non mi divertivo più nel senso che avevo perso la creatività e quando si perde la creatività non sei più utile alla Repubblica e quindi ho deciso di lasciare ho costituito un centro di ricerca che si chiama tuttora Italia Decide l'ho costituito e presiduto per 10 anni un centro che vede ha visto insieme Tremonti Letta Amato per dire insomma personalità con varie storie politiche ma che tutti avevano avuto molto dalla Repubblica e intendevano restituire quello che hanno avuto adesso presidere la Fondazione Leonardo ci occupiamo in particolare di intelligenza artificiale e di spazio sto imparando un sacco di cose devo dire perché sono convinto che si muore quando si smette di imparare per fortuna sto imparando quindi spero di durare ancora per un po' Un ultimo flash sulla politica uno dei miti anche qui dei mantra per tanti anni nelle stagioni precedenti della prima la governabilità la stabilità la governabilità noi siamo rispetto alle ultime elezioni 2018 al terzo governo in tre anni quindi evidentemente nel quadro di questa vagheggiata stabilità e governabilità abbiamo cambiato tre governi in tre anni qualcosa forse non torna io l'ho sentito dire a proposito all'interno di un ragionamento articolato però mi interessa su Matteo Salvini gli errori che ha fatto perché gli ha fatti glielo imputano persino altri leghisti e quindi a proposito della stagione del papete lei ha detto devo rilevare che forse nella generazione degli ultimi politici non necessariamente Salvini è una generazione senza maestri è così? ma noi abbiamo avuto la fortuna sì sì non per colpa loro naturalmente pensi solo che la maggior parte una quota rilevante più della metà dei parlamentari attuali hanno votato dopo la caduta del muro di Berlino dopo l'89 per la prima volta e che vuol dire che sono trovati con la caduta del muro di Berlino tangentò con gli estaggi di mafia la caduta dei tradizionali partiti politici e ce n'è abbastanza come dire per essere confusi e tutto sommato e poi sono mancati in quella fase noi abbiamo avuto la mia generazione ha avuto maestri io parlo anche dei piccoli maestri non solo dei grandi maestri ma oggi ci sono dei piccoli maestri io penso per esempio agli insegnanti che senza nessun obbligo hanno fatto la DAD studiando bene come fare lezioni attraverso lo schermo il computer penso agli infermieri ai medici a quelli che lavorano alle cassiere dei supermercati penso a quelli che stanno lavorando in condizioni di difficoltà e di rischio da lì dobbiamo imparare anche dei comportamenti e dei stili di vita poi quanto alla stabilità volevo dirle bisogna distinguere la stabilità dei governi e la stabilità della linea politica nella cosiddetta prima repubblica abbiamo avuto instabilità dei governi ma stabilità della linea politica la linea politica era sempre la stessa perché governava comunque in posizione centrale lo stesso partito la demortezia cristiana grazie ai voti che prendeva dai cittadini il consenso che aveva adesso abbiamo un problema un po' più delicato perché c'è instabilità dei governi e instabilità della linea politica questo è il danno reale è la instabilità della linea politica io credo che c'è bisogno di avere qualche riforma costituzionale seria che dia stabilità dei governi ed eviti come dire la tentazione di far cadere i governi appena si è costituito da questo punto di vista una proposta che permetto di comunicarle e di vedere se non sia il caso di accorciare la durata delle dictature a quattro anni come accade negli Stati Uniti come accade in Germania perché cinque anni con la velocità dei tempi contemporanei sono troppi chiudo con questa proposta e con una battuta che spero che il Presidente non valuti troppo male ma purtroppo il frantica in me non riesce a controllarsi sono cresciuto da giovane iscritto alla Federazione Giovanese Comunista negli anni 70 il mio segretario era Massimo D'Alema che ancora fa politica quindi va benissimo così ma insomma cresciuto sotto il regime democristiano che volevo abbattere poi sostituito dal regime craxiano poi sostituito dal regime berlusconiano poi dopo Berlusconi tutti liberi e sparsi ecco non voglio dire che la stabilità e la governabilità mi devono indurre a dire ma si stava meglio quando si stava peggio e c'era un regime almeno quello era chiaro invece adesso nella società liquida di Bauman non si sa neanche con chi prendersela però prendo come invito a ragionare su questo accorciamento della legislatura perché nei tempi moderni davvero cinque anni sono un'eternità Presidente grazie è un piacere speriamo di rivederci e risentirci presto le auguro il meglio grazie a tutti coloro che hanno seguito questa piacevolissima chiacchierata noi ci ritroviamo come al solito domani alle 10 qui su lefonti.tv buona giornata a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a presto grazie a tutti i nostri amici